Grazie al passaggio alla nuova formula del 6 più 6, il pisto di basket ha ingaggiato il centro statunitense Mikkel Jawan Gladness. Pivot di 2,11 metri per 105 kg, nato in Alabama 32 anni fa, il giocatore vanta una lunga esperienza a livello internazionale. Prodotto dell'Alabama University, Gladness si era già messo in luce in NCAA come ottimo difensore, iniziando poi la sua carriera da professionista in Olanda. Tornato negli States, Mikkel ha disputato la D-League vincendo un titolo con i Rio Grande Valley Vipers. Da lì, nel dicembre 2011, è arrivato il salto in NBA, prima con i Miami Heat e quindi, dalla primavera successiva, con i Golden State Warriors, con i quali ha collezionato 18 presenze. Terminata questa avventura, sono arrivate altre stagioni in D-League e quindi le esperienze in Australia e Nova Zelanda. Dal 2015-2016 ancora cambiamenti, prima in Israele, poi in Argentina e in Estonia e quindi in Spagna con Bilbao. Con i Baschi, Gladness ha giocato 42 partite, quasi sei punti e più di quattro rimbalzi a gara, ma non è riuscito ad evitare la retrocessione. A settembre di quest'anno è tornato in Israele per sostituire l'infortunato Gerard Lee con un contratto di due mesi. Il resto della storia verrà scritto a Pistoia, ma dalla prossima settimana. Questo intervento, ha sottolineato Coccia Ramagli, ci permette di aggiungere un giocatore alle nostre rotazioni. Si tratta di un elemento esperto, con attitudine difensiva e abilità specifiche nella protezione dell'area e del ferro.